Questo periodo gender gap per gli equiti, ovvero equità o disparità di genere, equità o disparità salariale. Andiamo a vedere un po' che cosa sta succedendo. È un tema molto caldo, è un tema molto caldo sia in Unione Europea che in Italia. Adesso andremo a vedere come si sta muovendo anche la legge a riguardo. È un tema molto caldo perché comunque dal 2015, da quando sono nati gli obiettivi 2030 di sostenibilità dell'ONU, le tematiche di diversity equity inclusion sono entrate nelle agende di sviluppo delle organizzazioni. Timidamente all'inizio, in modo molto più consistente oggi, nel mondo l'80% delle grandi organizzazioni ci dicono che sono impegnate attivamente sul miglioramento delle tematiche dei, solo il 42% però ha in piedi una strategia pluriannale. E questo è un dato significativo. Perché? Perché muovere un sistema, un'organizzazione nel miglioramento di questa tipologia di obiettivi, vedi il tema dell'equità salariale, vedi il tema delle pari opportunità, richiede un percorso che dura qualche anno. E richiede una serie di caratteristiche, tra cui una serie di misurazioni. La prima è, ma benissimo, ma le donne dove sono se parliamo di equità di genere all'interno dell'organizzazione? Al di là di quello che le aziende dichiarano, quando andiamo a vedere i dati che pubblicano, troviamo che solo il 45% delle organizzazioni ci dice che ha donne in posizioni manageriali. Chiaramente, quando saliamo la piramide, le donne si rarefano ancora oggi. Solo il 37% infatti ha donne in posizioni di profit and loss, che sono anche le posizioni meglio retributite. E solo il 36% misura la mobilità interna in base al genere, ovvero quante donne promuovo da un livello organizzativo all'altro. Rispetto invece alla disparità salariale, di nuovo, le organizzazioni dichiarano l'equità è parte della nostra strategia di pay. In realtà, poi quando andiamo a guardare, la metà di queste organizzazioni usa un approccio solido, statistico, e Sara ce ne parlerà, la mia collega ce ne parlerà a brevissimo. Solo il 32% ha un processo formalizzato per correggere e mitigare le discriminazioni salariali. E ancora oggi il tema rimane nel campo da gioco di reward e di comp and ban. E non è ancora un punto di discussione importante a livello di C-suite. Cioè la pay philosophy, come dire, non è ancora arrivata pienamente sul tavolo dei board e delle C-suite. L'Europa si sta muovendo. Come vedete, ogni paese, rispetto al tema dell'equità salariale, ha la sua legge. Ha la sua legge e proprio perché la pressione sta crescendo così tanto, lato investitori, lato stakeholder interni e esterni, lato attivisti, lato consumatori, anche la Commissione Europea sta facendo uno sforzo per uniformare questo tessuto normativo. Per cui per andare, come dire, a prendere i gold standard delle varie legislazioni locali e crearne una che sia omnicomprensiva. In Italia cosa sta succedendo? Abbiamo il piano nazionale di ripresa e resilienza. Il 26 ottobre è passato in Camera e in Senato il disegno integrativo dal codice delle pari opportunità sulla parità salariale, sulle pari opportunità di lavoro e di carriera. è molto congruente con quella che è la missione 5 del PNRR, che punta a far crescere il femminile all'interno dell'organizzazione, a garantire equal pay for equal work, pari salario a parità di mansione, ad avere in piedi delle politiche virtuose di gestione delle differenze di genere e anche delle polisi a tutela della maternità in Italia, della genitorialità in Europa. Prossimi passi del PNRR, quello che sappiamo è che tutte le aziende, dai 50 dipendenti in su, saranno dichiarate a riportare alcuni di questi dati, vedi la rappresentatività, vedi la disparità salariale, e che chi lo farà avrà sia accesso a sgravi fiscali, quindi in una logica premiante, sia un punteggio maggiore nel momento in cui partecipa a bande e concessioni pubbliche. Sappiamo già nello specifico quali saranno i criteri della certificazione? No, perché al momento questa definizione è rimandata ai decreti attuativi e il tavolo tecnico è partito proprio un paio di settimane fa. Ricordiamoci però che i gold standard cosa ci dicono? Che per lavorare su questa tematica e ridurre davvero la disuguaglianza di genere abbiamo da lavorare su queste dimensioni, curare la rappresentatività nei vari livelli organizzativi, quanti assumiamo, quanti promuoviamo, quante persone escono, come si muove la mappa nel nostro mercato del lavoro interno. Abbiamo un tema di equità e equità non è solo paghiamo le persone che fanno lo stesso lavoro allo stesso modo ma è anche garantiamo pari opportunità di crescita all'interno dell'organizzazione, pari opportunità di sviluppo professionale anche se non di crescita verticale all'interno dell'organizzazione. Quindi dentro il mondo dell'equità non c'è solo una tematica di pay. Nella grande area, nel grande alveo dell'inclusione parliamo di appartenenza, senso di appartenenza, cultura organizzativa, quanto ascolto le mie persone, quanto sono in grado come organizzazione di elaborare una risposta che sia congruente a quelli che sono i bisogni delle persone. E abbiamo qui dentro, un po' come citavano Luca prima in plenaria, il grande mondo del welfare, del well-being, perché è diverso se io sono una giovane singola oppure un neogenitore oppure sono caregiver, come cambiano i bei bisogni e che cosa vuol dire per me che l'organizzazione mi garantisce pari opportunità e pari accessibilità al lavoro. Per non dimenticarci quello che ci dicevamo prima, cioè spostare un sistema rispetto a queste dimensioni richiede una strategia pluriennale. Per poter fare una strategia abbiamo bisogno di avere una governance, di avere una struttura dedicata, abbiamo bisogno di misurare, abbiamo bisogno di comunicare quello che stiamo misurando internamente ed esternamente, abbiamo bisogno di darci degli obiettivi concreti, perché così sappiamo se li stiamo raggiungendo oppure no. Ovvero abbiamo bisogno di mettere in piedi una strategia. E una strategia, come dire, vive di queste quattro dimensioni, sempre. Una prima parte di fotografia dello stato presente, che in questo caso riguarderà come pago le persone, ho disparità salariale al mio interno, dove sono le donne all'interno dell'organizzazione, che cosa mi dicono le persone, non è facile, è difficile crescere nella mia azienda, quali sono le barriere, e tutto questo va portato sul tavolo di chi decide. Quindi chi sono i decisori nella mia organizzazione, come li ingaggio, come me li porto a bordo e insieme a loro. Che obiettivi decido che la mia organizzazione si darà? Il bilanciamento nelle posizioni manageriali? L'equità salariale? Ok, in base alle decisioni che abbiamo preso, quali sono le azioni che metteremo in campo? Le politiche di mitigazione, rivedo il mio modello di competenze, lavoro sui percorsi di carriera, guardo i miei pool di talenti. Tutto questo, come dire, va misurato e le misurazioni in itineri di quanto ci stiamo avvicinando agli obiettivi che ci siamo dati vanno comunicate in modo trasparente, sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione. Parlando più specificatamente di pay equity e di qual pay, ovvero di equità salariale, anche qui abbiamo bisogno di individuare un approccio come quello che ci stavamo raccontando, multidimensionale. Per cui abbiamo bisogno di andare a fare un affondo rispetto a qual è la nostra strategia di pay, la nostra filosofia di pay. Com'è fatta? Quali sono i driver con cui paghiamo le persone? Li paghiamo secondo dei driver che sono riconosciuti equi, non solo internamente, ma anche esternamente, rispetto al mercato? Come ci stiamo muovendo? Quali sono le linee guida che ci diamo e che governano le nostre politiche salariali? Queste linee guida ci aiutano a limitare i bias e la discrezionalità? Ci aiutano a mantenere questa equità, mi veniva fairness, all'interno dell'organizzazione? E se sì, come facciamo a saperlo? Stiamo misurando continuamente qual è il rischio di disparità? E come dire, abbiamo messo a budget le iniziative di mitigazione e una volta che l'abbiamo fatto abbiamo attivato un primo processo di trasparenza, di comunicare in modo trasparente questo. E le linee guida che ci siamo dati ci garantiscono che questo gap non si ripresenterà domani mattina, anche se abbiamo messo il budget e l'abbiamo rimediato, ma come ci garantiamo che non si rigenererà? E non ultimo, stiamo facendo crescere, nel caso della disparità di genere, le donne anche in quelle posizioni che sono meglio retribuite all'interno dell'organizzazione. Quindi anche lavorare sull'equità salariale significa, come state vedendo, toccare quelle dimensioni strategiche che ci raccontavamo prima. E adesso entriamo più nello specifico delle tematiche, della metodologia di pay equity e lascio la mia parola alla mia collega Sara Bottaro che ci porterà in questo mondo. Buonasera a tutti. Allora, come diceva Valentina, entriamo più in un verticale che riguarda proprio il divario distributivo. Fondamentalmente, vedremo un pochino come lo stanno affrontando e come possono affrontarlo le aziende, a che punto sono le aziende. Naturalmente, il punto di partenza è capire cosa misuro e come lo misuro. Un primo allineamento terminologico, ma anche concettuale, la differenza tra il concetto di gender pay gap e di gender pay equity. Quando parliamo di gender pay gap, facciamo riferimento a una differenza distributiva che è definita come retribuzione media di tutti gli uomini che ho nella mia organizzazione, rispetto a retribuzione media di tutte le donne che ho nella mia organizzazione. Ma è evidente che questo modo di valutare il divario distributivo è, diciamo, totalmente insufficiente, perché certamente ci saranno degli elementi che legittimamente all'interno di un'organizzazione producono una differenza retributiva, quindi tipicamente la complessità di ruolo, la famiglia professionale, il livello gerarchico, eccetera, eccetera. Quindi la cosa fondamentale è andare a isolare quella parte di divario retributivo che è provocato da fattori legittimi in modo tale da capire qual è invece il gap reale collegato a bias e pertanto quello su cui è necessario intervenire. Quindi questo è il concetto di equal pay for equal work che ricorda, tra l'altro, come punto di aggancio sia in alcune normative già in vigore che in normative in corso di valutazione. Questa cosa è anche molto importante perché quando andiamo poi a fare concretamente questi lavori nelle aziende, noi vediamo che l'ordine di grandezza è questo, cioè parto da un gender pay gap generale che è nell'ordine del 20%, quando vado a isolare tutti i fattori legittimi arrivo a individuare un gap vero collegato a discriminazione nell'ordine del 5%, dove i fattori legittimi sono certamente quelli che abbiamo già citato collegati al ruolo, alla location, il livello gerarchico, ma sono anche quelli collegati al titolare, quindi il livello di performance, la tenure, l'età anagrafica, come però data l'importanza di isolare i fattori legittimi e quindi il gap veramente soltanto collegato a fattori legittimi. Abbiamo capito che il concetto di gender pay gap non ci aiuta, in generale generico in questo non ci aiuta, le altre due possibilità sono le seguenti. Allora, una è fare una equal pay analysis, che significa prendo la mia organizzazione, la affetto, la segmento in termini di classe e di popolazione, raggruppando ruoli con la medesima complessità e tendenzialmente con la stessa area professionale, vedo qual è il divario detributivo e mi aiuto con delle analisi qualitative e deduttive nel cercare di comprendere questo divario in quale dimensione può essere collegato a fattori legittimi, come dicevamo prima, la performance, l'età, l'anzianità nel ruolo. Questo consente, quantomeno in termini diciamo qualitativi, di andare a intercettare le situazioni fuori scala e quindi consente comunque di fare dei piani di rimedio, quantomeno per gli outlier. se invece vado a fare, a utilizzare un approccio un po' più complesso, un po' più sofisticato, ma certamente molto più preciso, allora lavoro tendenzialmente con gli analytics e con dei modelli di regressione che consentono di arrivare a isolare con precisione i fattori sui motivi e motivi, invece.